ciao allora faccio questo video per chiarire un punto riguardante il contest cerca di fare un contest un po diverso dal solito e con delle regole molto blindate al fine che questo potesse essere non potesse essere intaccato da qualsivoglia problema o polemica perché insomma il contesto è una cosa che è bella no perlomeno per me però qualcosa è successo lo stesso ma ora cerchiamo di risolvere sabato mi è arrivata la mail di maria amoroso che mi dice che ha fatto un contest sono lavoro scusatemi mi sono presa una pausa perché lavorerò tantissimo quindi non posso andare a casa questi sono i recchini di antonella grazie sono bellissimi questo braccialetto comunque allora questo per rimanere sempre su dei toni anche un po scherzosi perché così deve essere non stiamo troppo a drammatizzare le cose ok e maria amoroso mi ha contattato sabato nel tardi pomeriggio per dirmi che lei aveva caricato sul suo canale un un video per i suoi suoi un contest e che solo dopo aveva visto che io stavo facendo che anch'io stavo facendo un contest già dal 3 di settembre contest infinito si chiamerà il mio e perché appunto ha più step quindi purtroppo bisogna seguirli bene e mi diceva guarda per alcune cose del mio contest ricorda il tuo e quindi volevo dirti che non ti ho copiata non avevo intenzione di farlo eccetera e io le ho risposto subito dicendo non ti preoccupare anzi complimenti per il traguardo raggiunto che peraltro è sempre 4000 come i miei 4000 quindi che cosa succede succede che io poi sono andata a vedere il video anche perché mi sono arrivati altri mi sono arrivati altri messaggi da più persone che hanno detto guarda guarda ti ho copiato ti ho copiato ti ho copiato e quindi insomma ho cercato di capire che cosa tre punti uno è se effettivamente il mio contest e quello di maria amoroso sono realmente uguali oppure no quindi se c'è questo oggetto del contendere e qualora se ci fosse se la coppia chiamiamola così è stata fatta volutamente oppure no quindi se con dolo o con colpa e poi cosa più importante che interessa a me e anche soprattutto a voi che state partecipando a questi contest è ma se realmente c'è un trattasi di copia che cosa succede ok allora quindi quali sono le conseguenze no ecco allora io dico subito che ho risposto di primo impatto a maria amoroso perché comunque io sono sempre tra virgolette ben pensante nel senso che non penso che che scopo deve avere una per copiare un contest mio e come dire non fare una cosa sua originale cerco di pensare che non ci siamo non ci ne sia motivo no ok sono andata a vedere il video devo dire che molte cose del suo contest ricordano il mio cioè per esempio il fatto che molto spesso quando si fanno questi contest i temi trattati sono abbina la creazione a un abito casual moderno da sposa eccetera oppure mi ricordo agli abiti delle principesse delle fate delle fiabe della disney o ancora abbina ai cappellini del matrimonio regale a questo dove ho partecipato anch'io tra le altre cose quindi più o meno sono quelli no gli accostamenti e io invece ho voluto fare una cosa diversa per fare una cosa originale e soprattutto poi per dare come dicevo importanza e lustro alla nostra bella Italia che ha vissuto un'estate difficile e non voglio dire per quali motivi nello specifico perché non mi va di strumentalizzare le brutte cose che sono capitate quest'estate che ci hanno fatto soffrire in molti comunque questo è il tema che voi già conoscete quindi un tema diverso si parla di città si parla di bellezze però anche artistiche soprattutto artistiche e poi altro elemento importante è che non ho voluto utilizzare i like perché poi si sa un po' come si va a finire con i like si creano sempre problemi e io volevo evitare problemi e quindi ho utilizzato, sto utilizzando, sfruttando quasi fino a farmi odiare una giuria che è in parte tecnica e in parte popolare bene, ora guardando il video di Maria Amoroso anche lei ha deciso di non fare un tema come quelli che dicevamo prima ma un tema di che tipo lei dice di abbinare una creazione a una città cara che può essere quella in cui si è nati o quella in cui si è residenti a parte che come farai a controllare che realmente uno sia residente in quella città o no però vabbè quello insomma penso che sia anche marginale nel senso uno metterà la città che forse gli sta più a cuore questo penso tu volessi intendere e quindi ecco che l'elemento che io trovo più affine è quello l'elemento emozionale cioè si vuole su ciuffo si vuole nel mio contest io ho voluto che chi partecipa chi partecipa al mio contest si è chiamato a fare una creazione manuale ma anche a darmi del suo a livello emotivo e infatti chi ha partecipato sapeva questa cosa e quindi si è messa anche un po' in gioco e tra l'altro mi stanno arrivando degli iscritti veramente da pelle d'oca e quindi forse questo è un po' l'elemento in comune cioè la città ecco quindi alla prima questione che io ho in mente di rispondere è sono uguali? beh sì per molte cose si somigliano però non sono proprio proprio uguali c'è un filo che le unisce ok e quindi sono contenta che ci sia questo filo che ci unisce non tanto e sono onesta non tanto perché volevo che fosse una cosa mia solo mia perlomeno fin tanto che il contest è in corso poi una volta concluso non è che si può pensare che la mia idea rimanga per sempre solo mia anche perché anzi se uno in parte la fa sua è perché è un'idea che penso sia piaciuta altrimenti uno va a fare cose similari ad altre se sono cose brutte ecco quindi forse un po' mi dispiace diciamo anche che io sono pronta anche a collaborazioni e se fossimo amiche io e Maria Amoroso probabilmente lei probabilmente non mi segue sul mio canale e anzi mi rivolgo proprio a te Maria iscriviti iscriviti, accendi la campanella ok quindi mamma che naso aspetta quindi la cosa principale se lei fosse stata iscritta al mio canale di sicuro avrebbe visto che io stavo facendo questo contest e magari avendo lei questa idea avremmo potuto fare una sorta non di collaborazione per amore del cielo perché non è che voglio obbligare a nessuno però mi sarebbe piaciuto anche condividere un po' l'idea anzi io sono aperta perché ho una miriade di idee non riesco a svilupparle tutte quindi mi piacerebbe anche però siccome lei non è una mia amica probabilmente non sarei iscritta al canale ecco l'unico dubbio è che che poteva nascere l'ha pubblicato di mattina e di sera subito mi ha scritto cioè troppo poco tempo però io dico anche come sono arrivate a me le segnalazioni guarda che ti ha copiato potrebbe essere che qualcuno perché io penso sono sempre in buona fede e quindi anche nei confronti di questa ragazza signora signora no ragazza perché sennò sono signora anch'io quindi nei confronti di questa ragazza penso come sono arrivate a me le segnalazioni in cui mi si dice guarda che la Maria amoroso ti ha copiato potrebbe essere benissimo che anche qualcuno sia andato in privato a scriverle subito qualcuno magari iscritto al suo canale guarda che è simile a quello della della stessa campagna quindi io non penso cioè io sono positiva lei mi ha scritto e quindi non vedo perché non devo crederle ok ringrazio le persone che mi hanno fatto questa segnalazione perché sono persone che l'hanno fatto con affetto nei miei confronti e sono state tante ma in particolare ringrazio Eliana Paradiso e Flavio perché loro sono andati anche a commentare sotto il video e insomma come dire certe volte ti fanno dei commenti le persone però non si spungono invece loro si sono anche esposti andando a scrivere sotto al video in questione guarda che è uguale a quello di Tiziana così dando a me e a lei cioè dando a me e a te Maria Maria Rosaria scusami ci ho chiamato Maria Maria Rosaria Maroso dandoti la possibilità quindi di esaminare questa cosa per cui sono uguali non sono uguali sono simili il dubbio che lei mi abbia copiato è venuto anche a me però forse è venuto anche lei nel senso che anche lei trovandosi nel mio posto avrebbe pensato la stessa cosa perché sono simili e contestuali nel senso c'è in corso il mio e c'è il suo però se lei ha detto che non è non mi ha copiato è un'idea che le è venuta di suo io non ho motivo di credere diversamente e sono contenta che abbia avuto questa idea perché anche lei con anche le scritte le sue scritte con le loro come dire con le loro creazioni daranno anche loro lustro alla nostra bella Italia e quindi non posso che essere contenta di questo quindi abbiamo risposto alle prime domande sono uguali sono simili ma non uguali guardate che bello il braccio letto sono simili ma non uguali è copiato lei ha detto che non è copiato quindi io mi fido e vi invito a fidarvi anche voi e adesso le conseguenze adesso niente cioè lei mi ha anche scritto oggi perché probabilmente sotto pressione di tutti quelli che scrivevano ha valutato perché quando mi ha detto stavato non mi ha detto se vuoi lo cancello però oggi in tutta onestà vi dico che mi ha detto se volete lo annullo se volete scusa se vuoi Tiziana lo annullo ma anche se sono io per andare a dire a una persona annulla il contest perché assomiglia al mio no assolutamente e poi soprattutto visto che non mi toglie niente cioè non è un tutorial io ho fatto un tutorial lo copiano ho la pubblicità invece di fare l'orecchino seguendo il mio tutorial fanno l'orecchino seguendo il suo di tutorial e quindi lei prende la pubblicità io no per quello che si guadagna con la pubblicità vi rimando a vedere il video sulla pubblicità ok che ho fatto e come notate il mio tonno di adesso non è di una persona arrabbiata ok quindi vado a va uno a ricopiarmi in tutorial quindi lo vanno a vedere da lei e non lo vedono da me sì non mi sta bene ma su questo contest ecco io fossi stata io al suo posto l'avrei cancellato subito perché non voglio come dire che chi partecipa da me magari usi le foto che cioè che mi usi non dico come ripiego eh Maria non vederla così come ripiego però che insomma magari utilizzi delle foto che avevi in mente di usare per il contest un'altra le usi di ripiego per il mio però cioè allo stato attuale siccome le persone maggiormente da tutelare non siamo né io né la Maria Maria Rosaria amoroso ma sono le persone che partecipano al contest quindi alcune avranno magari anche già iniziato a fare una ricerca dei lavori per il suo contest ecco allora perché annullarlo quindi le conseguenze non c'è non c'è danno per nessuno io sono serena in questo senso e sarà che non sono non sono portata essere iraconda di natura e quindi anche in certe occasioni in cui sono stata sollecitata a dire la mia prendere posizione eccetera io sono rimasta in silenzio perché questa è la mia filosofia di vita però oggi ho parlato perché perché siccome mi sono arrivati diverse segnalazioni non posso far finta di niente siccome anche Maria mi ha contattata Maria Rosaria mi ha contattata non posso far finta di niente perché alla fine sembra quasi che io sia una figura astratta che va sulla sua strada e che non si rende conto quando gli altri gli mandano degli input e chi mi conosce sa che non sono così e poi anche perché per rispetto delle persone che stanno partecipando al mio contest io devo dire qualcosa e oltretutto avevo anche pensato di anticipare i tempi perché sono nella fase in cui adesso le mie le persone selezioni sono alla fase in cui devo pubblicare il video in cui le persone che passano il turno sanno che passano il turno ok non so se mi sono sfigata e quindi ho pensato ciò che mi do una mossa così da dare la possibilità anche alle persone che non hanno passato il turno di nel frattempo mi è arrivata una telefonata scusate e quindi ho dovuto interrompere stavo dicendo avevo pensato di affrettare i tempi perché così da dare la possibilità a chi non ha passato il turno di partecipare al contest di Maria però non lo posso fare perché ci sono ci sono aspettando proprio che scusate che la giuria faccia il suo lavoro manca pochissimo e non preoccupatevi perché tra pochissimo avremo i risultati e tra le altre cose colgo l'occasione per dire che anche chi è rimasto fuori farà un sorteggio per premiare chi è rimasto fuori non è entrato in finale e anche poi per premiare chi segue questo contest dando un piccolo regalino però a chi poi seguirà il contest fino alla fine sto pensando di fare qualcosa per per premiarlo soprattutto perché così chi è in finale può essere ammirato perché poi magari uno lo guarda agli inizi e non arriva fino alla fine quando sa che non è più coinvolto che insomma e invece così poi si potrà arrivare fino alla fine comunque questa era una parentesi scusate quindi per concludere la situazione mi sembra di averla chiarita molto bene Maria aspettava una mia risposta per per capire il mio pensiero siccome le cose da dire Maria Rosaria erano tante e volevo esprimermi in modo completo ho fatto questo video così anche tu potrai vederlo e e quindi se questa cosa non fosse capitata per quagliare se questa cosa non fosse capitata sarei stata più contenta ma penso che questo sia un sentimento che ecco in questo caso ci accomuna nel senso che anche tu non penso tu sia felice che sia venuta fuori questa cosa così no ecco è capitato siccome siamo persone adulte e e quindi non stiamo a fare i capricci né io né te ci fidiamo della buona fede io mi fido della tua buona fede e quindi per me io non ti dico assolutamente di cancellare il tuo contest continua pure e e speriamo tu abbia un buon ritorno di scritte anche perché poi obiettivamente l'hai fatto anche un po' più semplice vedete che in questa cosa ci distinguiamo perché ho fatto tutta sta roba che dura vari step è un po' forse anche pesante mentre lei ha fatto una cosa più contenuta che in 15 giorni è chiusa e poi come giuria ha sì perché c'era anche il fatto che qualcuno mi ha detto ma c'è anche lei scelto la giuria come hai scelto tu sì però dai ha scelto la sua famiglia come giuria cioè non ha coinvolto 10 persone hai fatto bene perché coinvolge 10 persone sai a farla conta eccetera e quindi io non posso che dire ho ancora grazie a chi ha fatto queste segnalazioni vi voglio bene perché siete sempre molto attenti e carini nei miei confronti non preoccupatevi non è successo nulla Maria Rosaria non ti preoccupare non penso tu mi mi stia cagionando nessun tipo di danno che poi è la cosa sostanziale non sono simili non sono uguali che tu mi abbia copiato mi hai detto che è una cosa che ti è venuta di tuo e quindi io ti credo non ho motivo per credere diversamente invito tutti a credere a questa cosa e quindi sia per quelli che mi seguono che per quelli che seguono loro lei scusate che per quelli a cui siamo simpatiche e per quelle che ci odiano perché ne vedremo se no se non sei un po' odiata c'è qualcosa che non funziona ok no vai scherzi a parte vi invito a non pensare più a questa cosa andare avanti con il mio contest con il suo contest e pensare solo alle creazioni godetevi la visione delle mie e delle sue creazioni e boh penso che ci siamo abbiamo detto tutti tutto scusate e quindi siamo a posto non volevo passare per quella che non dice mai niente o che è tonta che non si rende conto delle cose perché non sono tonta ok se volte so zitta è perché il rimanere in silenzio è la cosa migliore e se a volte non faccio è perché il non fare è a suo modo un fare cioè decido di non fare delle cose è una mia decisione non è perché sto zitta non mi accorgo delle cose ok ringrazio comunque chi appunto ha fatto queste segnalazioni però ora ci siamo chiarite ci siamo chiariti tutti quanti ho fatto questo video che è durato un bel pezzo ora devo anche montarlo e caricarlo ringrazio Fastweb che è molto veloce e così spero di aver delucidato ulteriormente non si può dire insomma spero di aver dissipato tutti i dubbi sia di chi mi ha scritto ha scritto a Maria e i dubbi anche di Maria Rosalia stessa che quindi può viversi ora serenamente il suo contest senza problemi di genere ok un vado e vi giuro che fa pochissimo fra pochissimo guardate che brutta apprezzate il fatto che mi mostro così come sono ma no pure peggio perché la luce che c'è qua in ufficio è veramente pietosa apprezzate almeno questo e vi prometto che a breve avremo i primi risultati un abbraccio ciao a tutti ciao Maria Rosalia e direi che così va bene ciao